Domani derby qui al Garilli, come vede la partita? Sicuramente sarà una partita difficile, però un derby tutti noi ci teniamo a fare bene e soprattutto riscattare la prestazione non positiva di domenica scorsa. Come l'hai detto, una partita difficile, tesa, lei sente anche un po' la tensione per il suo futuro? Noi facciamo l'allenatore e siamo sempre in discussione, per quanto mi riguarda è normale. L'importante è che i ragazzi rispondano come hanno sempre fatto, a parte qualche partita. Negli ultimi giorni sono arrivati tre nuovi giocatori, come si gestisce l'arrivo di tre nuovi giocatori a questo punto del campionato? Sono ragazzi che sicuramente sono venuti per darci una mano. Vistazzone è arrivato già la settimana scorsa, è anche lo stesso di Di Maio. L'ultimo è arrivato, Tiponi, è arrivato ieri sera, oggi si è allenato con noi. Sono ragazzi, almeno la prima impressione è stata quella positiva, sono venuti qua con molto entusiasmo, con la voglia di, come ho detto prima, di darci una mano. Un nome secco, lei chi ruberebbe al Fiorenzuola? No, nessuno. Penso che il Fiorenzuola sta facendo un ottimo campionato, è composto da giocatori di categoria importanti, per cui a me dispiace che non ho sia Lisi che Mauri. e che Mauri.